Ciao a tutti, oggi un video tag velocissimo, descriviti con i libri. Sei un uomo o una donna? Lord Galvan di altro quando? Descriviti. Visioni. Cosa provano le persone quando stanno con te? Il malinteso. La tua relazione precedente? La tua relazione attuale? Due. Dove vorresti trovarti? Il mondo di ieri. Come ti senti nei riguardi dell'amore? Un lungo fortissimo abbraccio. Come descriveresti la tua vita? Doppio sogno. Cosa chiederesti se avessi a disposizione un solo desiderio? La via della liberazione. Di qualcosa di saggio. Tutti figli di Dio danzano. Una musica? Novecento. Chi o cosa temi? Nessun dove. Un rimpianto. La fine dell'estate. Un consiglio per chi è più giovane. Il panteismo. Da evitare assolutamente. Vita di un falsario. Questa volta il video tag era velocissimo, vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Ringrazio i nuovi iscritti. Vi invito anche a seguirmi ovviamente sul blog, sulla pagina Ask, sulla pagina Facebook. E ci rivediamo a un prossimo video. Ah, ovviamente giovedì esce quello sul taoismo, quindi vi invito a vederlo. Grazie.